Amici di ROTC70 Phone, vi presento cover Perfect Fit TPU semi trasparente, come potete notare il retro ha un effetto diciamo satinato, per HTC One e Mate, sono delle cover altamente protettive, potete vedere abbiamo un clear, un azzurro e un grigio scuro, andiamo a provare il clear, vediamo come lo protegge, infiliamo, andiamo a infilarlo bene, potete notare che rimane una protezione frontale, perché comunque non va ad appoggiare direttamente sul tavolo, completa protezione laterale, abbiamo l'accesso al bilanciere del volume, accesso al tasto di avvio e smegnimento stand by, libere le funzioni della fotocamera e il sensore dell'IRDA, anche la fotocamera c'è un po' di spessore che protegge e l'impugnatura ne guadagna, perché comunque rimane molto ben solido e TPU, quindi non tende a scivolare. Possiamo vedere che i tasti qui sotto, che i fori sono ben accessibili, questo è uno universale, come vedete prende tranquillamente e vediamo anche il jack da tre e mezzo, lo andiamo ad infilare, sblocchiamo e potete vedere che viene visto tranquillamente il jack inserito, vabbè adesso non capisco per quando lo faccio vedere, comunque come potete vedere il jack viene recepito tranquillamente, quindi non dà comunque nessun tipo di ostacolo all'inserimento sia del jack che dal cavo micro usb per la ricarica o sincronizzazione col computer. come vi ho detto sono cover semplici, è il giusto compromesso tra diciamo una cover poco invasiva e comunque il fatto di avere una certa protezione. Un saluto da Loris, Ares Battista70 per Battista70 a fondo.